Il programma del pomeriggio prevede l'intervento dell'Avvocato Michele Rossetti, procuratore federale, che vi parlerà su temi riguardanti la giustizia sportiva endofederale. All'Avvocato Rossetti la parola. Ringrazio ovviamente la federazione per questo spazio che mi ha concesso al quale tenevo particolarmente perché nel corso dei procedimenti che vado a istruire e a seguire spesso mi rendo conto che dirigenti ma anche atleti, tutti coloro che vengono interessati a un procedimento disciplinare spesso hanno una conoscenza che definirei eufemisticamente scarsa delle normative federali in tema disciplinare e questo ovviamente in genera confusione e alle volte in genera ma anche la convinzione, ahimè, non fondata da un punto di vista normativo che vengano commessi abusi o trascuratezze o interpretazioni personali o quant'altro. Ma spesso, ripeto, ciò avviene perché non vi è una cognizione precisa dei ruoli e delle funzioni di ciascun organismo. Quindi in questi minuti che mi sono concessi cercherò di dare una mappa di quelle che sono le funzioni degli organi di giustizia che poi appunto hanno tutta una serie di conseguenze che andremo a vedere rapidamente. Dice il nostro, scusate se ovviamente le mie slide sono noiose ma come tutte le cose giuridiche ci si basa sulle norme, io cercherò di darvi appunto degli spunti per quanto riguarda i riferimenti normativi. Dice il regolamento di disciplina di giustizia e disciplina nostro che ovviamente è conforme al regolamento di giustizia del CONI. Sono organi di giustizia, per essere la federazione, il giudice sportivo nazionale, i giudici sportivi territoriale, il tribunale federale, la corte d'appello. Quindi come vedete sono inquadrati come organi di giustizia esclusivamente coloro che sono chiamati a giudicare un fatto che può essere disciplinarmente rilevante o anche vedremo altro. La procura federale è organo della federazione che tutela l'interesse della federazione ed amministra il potere disciplinare della federazione. Non è un giudice, è un organismo autonomo che fa parte ovviamente del sistema giustizia ma che non è un organo di giustizia. Questo è il primo punto che è bene chiarire in quanto alle volte si fa confusione da questo punto di vista. Quindi l'unico interesse della procura federale è quello del rispetto delle norme e l'esercizio dell'azione disciplinare quando vi siano azioni che abbiano rilievo e quindi mettano la federazione in condizione di esercitare il proprio diritto di tutelare la propria immagine o di sanzionare i propri iscritti. Ma questo che cosa cambia? E lo vedremo tra poco. Perché? Perché invece agli organi di giustizia tralasciando il giudice sportivo che ha delle competenze ben specifiche che si caratterizzano nella competenza a valutare i fatti che avvengono durante una competizione sportiva. Ovviamente come tutto spesso avviene nel nostro ordinamento sportivo il calcio la fa da padrone e quindi tutti quanti penso che se seguono la pratica il giudice sportivo ha dato tre giorni di squalifiche. Il giudice sportivo perché? Perché ha una competenza specifica nel sistema appunto di sanzione con un procedimento molto snello. Qui abbiamo il nostro giudice sportivo nazionale che ovviamente può insegnarmi come si amministra la giustizia sportiva. E dicevo è ovviamente una competenza limitata ai fatti che avvengono durante la competizione sportiva molto velocemente viene decisa senza particolare contraddittorio e quindi ovviamente si privilegia la garanzia della velocità a quella dell'accertamento salvo che non vi siano fatti di una certa rilevanza che abbiano necessità di approfondimento e che quindi poi andrebbero per altra via. Quello sul quale invece io vi voglio catalizzare l'attenzione è la competenza del Tribunale federale che il codice all'articolo 39 qualifica come organi di giustizia ma poi in sostanza organi di giustizia significa tribunale primo grado, corte d'appello secondo grado oltre che ovviamente il terzo grado innanzi al CONI dice è attribuita agli organi di giustizia la risoluzione delle questioni aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentarie organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive e su questo mi sembra che non ci siano particolari problemi. B i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni e questo penso che anzi sia proprio il ruolo che maggiormente viene riconosciuto al Tribunale federale ma c'è un secondo comma che dice gli organi di giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo statuto e dai regolamenti federali e qui si apre un piccolo mondo perché di fatto la giustizia sportiva nel rivendicare la propria autonomia di fatto ha una organizzazione molto simile a quella della giustizia ordinaria. Tanto è vero che anche per dire l'istituzione della procura federale è stata successiva al 1989 quando sono state create le procure presso i tribunali e quindi molto spesso, come spesso avviene la giustizia sportiva prende a modello la giustizia ordinaria però c'è un però cosa abbiamo? Abbiamo che per una serie di motivi non ultimo la scarsità di mezzi e ovviamente la quantità di questioni da giudicare fatta salve le mega federazioni diciamo che sono sempre quelle due o tre ma noi siamo 52 federazioni e quindi ovviamente il sistema deve essere quindi dicevo nel nostro mondo ordinario noi abbiamo tre tipi fondamentali di competenze dei giudici abbiamo il tribunale civile il tribunale civile è appunto il tribunale competente a decidere le liti patrimoniali tra le parti io ho avuto un danno voglio un risarcimento addisco il tribunale civile e chiedo il risarcimento. Il tribunale penale che appunto è competente a esercitare la potestà punitiva dello Stato e quindi in questo caso subentra anche nel tribunale ordinario la procura della Repubblica che appunto esercita l'azione penale nell'interesse dello Stato e poi abbiamo il Tar. Qual è il compito del Tar? Tralasciando i compiti extra diciamo ultrasportivi che ultimamente sono stati assorbiti sia pure con quelli ma nel mondo ordinario il Tar che cosa fa. Il Tar decide sulla possibilità del cittadino di impugnare delle decisioni della pubblica amministrazione. Bene tutte queste tre funzioni nel nostro ordinamento fanno tutte capo al tribunale federale. Quindi quando noi pensiamo e questo ripeto è un concetto che vi prego di non solo assorbire ma anche trasmettere a diciamo a coloro con i quali vi confrontate sul punto. È importante comprendere che pur essendo lo stesso organismo giudicante che opera la decisione su alcune controversie è come se fossero enti distinti perché con competenze distinte. Quindi il Tribunale federale è competente a valutare le liti tra le parti dove la Procura federale non c'entra nulla. è competente a valutare le violazioni disciplinari sul richiesta della Procura federale. È competente a valutare eventuali impugnazioni da parte dei tesserati nei confronti degli organismi collegiali amministrativi che dovessero emettere dei provvedimenti e che si ritiene di impugnare dove anche in questo caso la Procura non c'entra nulla salvo che non vengano rilevati illeciti e che il Tribunale gestisce autonomamente così come avviene nel giudizio civile. Se c'è una lite condominiale non è che c'è la Procura della Repubblica che si interessa di questo. Se vi è una lite dove ci sono dei minori la Procura si può interessare perché c'è l'interesse principale dei minori. E quindi articolo 41 spetta ai tesserati e alle affiliate altri soggetti il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti all'ordinamento sportivo. L'azione è esercitata esclusivamente dal titolare di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale. Perché io ci tengo a specificare questo aspetto? Perché molto spesso giungono alla Procura federale, perdonate se questo discorso per alcuni può sembrare banale, ma vi posso assicurare che vi è tutta una serie di fatti che lasciano fondatamente presumere che non ci sia un'approfondita conoscenza normativa. Molto spesso, ripeto, giungono alla Procura federale, lamentele circa comportamenti non ritenuti, non corretti in determinate condizioni. Laddove viene leso un proprio diritto, che può essere un diritto patrimoniale, può essere un diritto di altra natura. Allora, non è che la Procura federale ignora, la Procura federale non può fare nulla. Perché, come dice anche il regolamento, l'azione, cioè la Procura, farebbe un abuso se si intromettesse in una vicenda che vede contrapposte società tesserati o tesserati con lenti. La Procura, nei momenti in cui, dalla narrazione del fatto, non emergono fatti disciplinarmente rilevanti, deve archiviare. Ma non perché non voglia interessarsi, perché non ha competenza a interessarsi, farebbe un abuso se facesse il contrario. Oltretutto, proprio per venire in conto alla possibilità di accedere alla giustizia, il Codice prevede, al terzo coma dell'articolo 41, che le parti possono stare in giudizio personalmente. Soltanto in sede di appello, eventualmente, è necessaria la presenza dell'Avvocato. E anche questo penso che sia un'agevolazione per quanto riguarda soprattutto le liti di natura minimale, che magari a una società possono essere ritenute non particolarmente appetibili per motivi strettamente economici. Ovviamente, ma questo non avviene soltanto nel giudizio sportivo, avviene anche nei giudizi ordinari. Il contributo per l'accesso di giustizia è stabilito così come potete vedere dalla tabella. Ovviamente l'ho messo, ultimo comma, l'ho messo versamento del contributo, in quel caso si potrebbe comportare responsabilità disciplinare. Quindi il Tribunale federale è competente comunque a decidere sulla lite, salvo che, qualora vi sia l'omesso versamento, appunto trasmettere gli atti alla Procura che ne avrebbe. Qualcuno dice, eh, c'è la tassa perché non volete interessarvi delle cose. No, non è questo il senso. È esattamente lo specchio della giustizia ordinaria. Se uno ha subito un danno, chiede al Tribunale ordinario il risarcimento del danno e per accedere al servizio giustizia del Tribunale, si paga l'iscrizione al ruolo che, a seconda del valore, ha una certa importanza. Se invece uno subisce una rapina, un furto, un qualunque reato, va dai carabinieri, fa l'esposto, l'esposto è gratuito. Ma nel momento in cui fa l'esposto non scatta automaticamente il diritto al risarcimento. Sono due cose completamente diverse e questo è un concetto importantissimo perché molto spesso le parti che denunziano un illecito disciplinare poi chiedono l'accesso, chiedono di partecipare, chiedono che cosa è successo. Guardate, ripeto, potete confrontare una qualunque istituzione che abbia dei dipendenti, soprattutto se pubblica, il procedimento disciplinare anche quando è aperto a seguito di esposto di qualcuno, anche nei confronti degli avvocati, quando qualcuno si lamenta del comportamento dell'avvocato e fa l'esposto contro l'avvocato, eccetera, eccetera, non ha diritto di interloquire nella gestione del procedimento disciplinare, ha esclusivamente il diritto di conoscere l'esito. Se ritiene di aver avuto un danno non è attraverso il procedimento disciplinare che ottiene il danno, ma deve agire secondo quanto abbiamo visto prima. E ripeto, ovviamente ci sarà un turno, il segretario penso che sia previsto un turno di domande, però spero di essere stato chiaro in queste poche battute e ho quasi terminato. altra piccola precisazione. Molto spesso si dice, ma dove sta scritto, queste sono le due cose principali, A. Dove sta scritto che questo comportamento non è lecito? B. Capita alle volte che si dica, ma voi vi state aprendo un procedimento per fatti che non hanno nessuna attinenza con l'attività della ginnastica. Anche qui cerco di essere molto breve, il tempo a disposizione è quello che è, e quindi cerco di condensare il mio intervento. Prima di tutto, comma terzo dell'articolo 2. Tutti coloro che sono sottoposti all'osservanza delle norme federali devono mantenere condotta conforme ai principi di lealtà, probità, rettitudine e devono osservare il cogi di comportamento sportivo. Questo è importante perché spesso ci si dimentica di un particolare. Siamo tutti degli esempi nei confronti dei nostri utenti. Siamo esempi quando siamo docenti, siamo esempi quando siamo campioni. Perché i giovani ovviamente si ispirano o al proprio maestro o al proprio idolo. E questo, ripeto, ci sarebbe da parlare molto su questo, ma ti faccio un esempio clamoroso che ovviamente, 500 mila euro di multa a un pilota di Formula 1 che è passato con rosso. Dice, beh certo, proporzionato al reddito del campione. Obiezione di qualcuno. Dice, ma scusa, se quello stava con la sua macchina e è passato con rosso, oltretutto sarebbero 12,50 euro la multa originaria. Dice, perché 500 mila euro? Perché è un campione? Perché ispira tanti giovani? Perché nel momento in cui, sui media, perché ovviamente sono sempre con... esce la notizia che il campione Tizio Ercaio ha preso una multa perché è passato con rosso, dà un esempio pessimo e di questo si assume la responsabilità. E così ci potrebbero essere tanti esempi che ovviamente non sto qui a ripetere. Il legito sportivo, penso che non vi siano particolari commenti da fare, considerato appunto che è un... questo sì, un concetto abbastanza presente nelle coscienze delle persone. Quello che invece molti addirittura si stupiscono che esista è l'articolo 12 del comportamento sportivo che, ahimè, a giorni alterni e ultimamente qualche volta in più è capitato. E ripeto, anche quest'articolo non è un'invenzione della Federazione Ginnastica, a parte il fatto che questo è il comportamento sportivo del CONI e non della Federazione Ginnastica che l'ha solo recepito. Ma esiste in tutte le pubbliche amministrazioni, esiste in tutti i rapporti di lavoro. E cosa dice? Dice che nel momento in cui vi sia un provvedimento dell'autorità giudiziaria o sportiva che abbiano avuto come destinatario il tesserato, il tesserato è tenuto a comunicarlo alla propria Federazione e dargli aggiornamenti. Già questo, l'omessa comunicazione, costituisce il legito disciplinare. Perché è vero che alle volte fatti eclatanti escano sui media, poi ovviamente l'ufficio stampa o chi lo vede lo fa arrivare alla procura, o addirittura qualche volta la procura generale dice è giunta notizia, eccetera, eccetera, ma non è la rilevanza mediatica che sposta l'obbligo del soggetto che è tenuto alla comunicazione. Quindi anche nell'ipotesi in cui, ed è capitato, anche nell'ipotesi in cui poi il provvedimento giudiziario, se i livelli infondato o comunque i fatti, l'omessa comunicazione già di per sé costituisce un legito disciplinare, che va per conto suo. E quindi è vero che nell'80, non ci nascondiamo dietro un dito, nell'80%, per non dire nel 95% dei casi, la notizia giunga o dai media o da qualche, tra virgolette, rivale che dica, ah, quello è stato messo sotto processo, eccetera, magari perché la denuncia era fatta lui. Però ricordate che è obbligo, e ripeto, non è un'invenzione della federazione ginnastica, è obbligo, quello non solo di comunicare l'eventuale apertura di un procedimento o qualunque comunicazione, ma anche gli aggiornamenti. Già questo di per sé costituisce illecito. E chiudo con due considerazioni, sempre nell'ordine, ripeto, è come se fosse una risposta pubblica, facendo il sunto di tutte le domande e perplessità che vengono sollevate, ho cercato di condensare il sunto. Altra questione importante, si svolge un procedimento disciplinare e a un certo punto c'è sempre, ovviamente sempre chi denunzia spesso, che non è soddisfatto del risultato. Perché dice troppo blando, buonista, eccetera, eccetera. Ma questo avviene anche nei giudizi ordinari, perché chiunque noi segue un po' le corona che vede che a fronte di determinati delitti, anche se danno magari 20 anni o 30 anni, c'è sempre qualcuno che al di sotto dell'ergastolo non è mai fatta giustizia. Ma queste sono considerazioni, diciamo, di altro tipo. In ogni caso, per quanto riguarda l'aspetto della disciplina c'è un massimo e un minimo che ovviamente questo è e questo gli organi di giustizia applicano. Non certo la procura, che si può limitare a chiedere, ma gli organi di giustizia applicano. Quindi nel momento in cui questi sono i parametri, entro questi parametri si deve giudicare. E se c'è un minimo e un massimo, questo ovviamente è nella sensibilità del giudice decidere se un fatto debba essere più vicino al minimo o più vicino al massimo. Ma non certo cose fantasiose. In altre federazioni ci sono altri parametri, ma questi sono i nostri. Del resto c'è anche una motivazione. E ve lo spiego nella prossima slide. Questa è l'articolo 11 che parla delle sanzioni pecuniari. Laddove il tesserato può essere sanzionato da 100 a 2.500 euro. Punto. La società da 500 euro a 5.000 euro. Questi sono i parametri. Ovviamente la federazione, una scelta del Consiglio federale, non certo nostra, evidentemente ha fatto le sue considerazioni anche in ordine a quelle che sono le condizioni economiche della stragrande maggioranza. E non si va né sopra né sotto questi limiti. Che che possa dire qualcuno o lamentarsi qualcuno. articolo 12 La sospensione può avere un massimo di 24 mesi per le società e anche per i tesserati. Cambia soltanto il minimo. Anche in questo caso tenete presente che è una scelta importante e da questo punto di vista permettetemi una piccola considerazione. commisurata alla natura del nostro sport. Vi sono sport che hanno una vita sportiva lunghissima. Tiro a volo tiro con l'arco per non parlare degli sport diciamo della mente il bridge gli scacchi dove abbiamo in nazionale anche ultra settantenni da noi non è così. Da noi la vita dello sportivo a livello apicale è abbastanza stretta. Quindi tenete presente che dare tre anni di squalifica a un giocatore di bridge ed è successo tutto sommato è una pausa e poi può riprendere tranquillamente a competere anche a livelli internazionali. Dare due anni a un atleta significa praticamente metterlo fuori da una carriera che era lì per andare. Quindi anche da questo punto di vista io lo dico perché alle volte sembra senza senso alcune decisioni del tribunale faccio il difensore d'ufficio degli occhi di giustizia. Cioè dare sei mesi di squalifica a una persona dare tre mesi di squalifica a una persona alle volte significa anche metterla fuori da un campionato perché noi non abbiamo come il calcio 50 giornate che quindi il campionato italiano ha quattro giornate se non sbaglio. Quindi nei momenti in cui uno non può partecipare a due giornate non può fare il campionato italiano. Quindi anche la dosimetria della sanzione è comunque commisurata alla natura del nostro sport. Fermo restando ripeto che questa è una scelta della federazione sulle quali le parti non dovrebbero avere alcun tipo di interlocuzione. Da ultimo e chiudo la privacy questo strano elemento che è un po' come le talpe che quando non si sa che dire si invoca la privacy. Allora la sanzione disciplinare soprattutto quando si parla di sanzioni gravi quali appunto la sospensione o la radiazione la privacy non c'entra nulla anzi è doveroso che la gente sappia quanto meno perché ma ripeto io faccio l'esempio degli avvocati sulla quale ovviamente la vivo sulla pelle se un avvocato riceve sei mesi di sospensione e non lo sa nessuno c'è il concreto pericolo che questa persona continui a fare l'avvocato perché tanto non lo sa nessuno invece i clienti i magistrati i potenziali clienti devono sapere che questa persona è stata sospesa ma non perché lo si voglia esporre al pubblico ludibrio o altro ma semplicemente perché è una conseguenza della misura anche perché ripeto non è che tutti quanti hanno l'accesso alla banca dati della federazione per sapere se una persona è stata sospesa o non è stata sospesa così neanche come i giudici di gara hanno spesso la possibilità soprattutto nelle competizioni di livello più basso di poter verificare se la persona è sospesa o meno quindi non c'è nessuna violazione della privacy fermo restando che almeno nella storia attuale il tribunale è molto parco nel disporre la pubblicazione però le sentenze sono pubblicate sul sito è una conseguenza ineluttabile cioè non c'è nessuna violazione della privacy anzi dovrebbe essere a garanzia di tutti quello di sapere chi legittimamente esercita i propri ruoli all'interno della federazione e chi invece è stato ahimè colpito da un provvedimento che se non si parla di radiazione è sicuramente destinato a rimanere limitato nel tempo io mi scuso se sono sembrato banale o comunque eccessivamente dottrinale in questa spiegazione però ripeto questo mio intervento è il frutto di diversi anni di confronto con coloro che sia perché lamentano fatti o atti sia perché sottoposti a indagine o a procedimento disciplinare poi hanno nei fatti dimostrato di non conoscere la normativa quindi come oggi è occasione di aggiornamento su fatti che sicuramente da un punto di vista economico sono particolarmente toccanti in ordine appunto dei rapporti di lavoro e quanto riguarda appunto la formazione di noi manager penso che anche l'aspetto della giustizia sportiva abbia il suo giusto ruolo e quindi sia corretto conoscerlo grazie grazie avvocato Rossetti grazie Michele sono tematiche che sicuramente fanno parte della nostra vita una vita federale che come un po' diciamo nella società civile ci appare sempre maggiormente litigiosa non so perché ma evidentemente è il modello che i talk show ci mediano e ci offrono ogni sera in televisione discussioni e cose varie grazie a tutti grazie a tutti